Non si ferma più la marcia dell'Invicta, che con il risultato di 83-54 supera il San D'Agata e consolida il sorma e aritmetico primo posto. Gli uomini del coach Spena giocano sul velluto e trascinati da un superlativo pari dei giusti, danzano sul parquet del Palacanizzaro. Partita giocata a livelli altissimi dai gestisti nisseni che sono ormai padroni dei propri mezzi, ed offrono al sempre più numeroso pubblico del palazzetto trame di gioco raffinate con ogni giocatore sempre al posto giusto. Aspettando i play-off di fine stagione, l'Invicta scenderà in campo sabato 11 febbraio nella lunga trasferta a Capodorlando contro la capo Basket. Basket, Serie D, Girone B, i risultati della dodicesima giornata. Leonardo da Vinci, capo Basket, 74-78. Invicta, Sant'Agata, 83-54. Virtus Trapani, Zanella, Cefalù, 69-82. Riposa, Basket Messina. La classifica. Invicta, 20. Capo Basket, Zanella, Cefalù, 14. Sant'Agata, 10. Leonardo da Vinci, 6. Virtus Trapani, 4. Basket Messina, 2. La matematica ci dà ragione. Siamo primi, ancora non ci sentiamo appagati e lavoreremo giorno dopo giorno, allenando dopo allenando, anche perché partite facili non ce n'è. Si è visto stasera, i primi due quarti eravamo ancora punto a punto, si può dire. Abbiamo chiuso sopra di 10, ma nella palla a canestro 10 punti sono un attimo recuperarli. Noi pensiamo ad allenarci e pensiamo che le prossime partite saranno dure, difficili, in previsione dei play-off. Poi alla fine dell'anno tireremo le conclusioni. La nostra testa è a questa stagione. Pensiamo a questo campionato che ancora è lungo. Oggi devo sottolineare la prova di Fabio Amato. Fabio Amato è stato monumentale al rimbalzo, è stato monumentale in difesa, non facendo muovere i lunghi avversari che non sono dei lunghi facili da marcare. Ma soprattutto Fabio ha avuto la pazienza di aspettare il suo turno. Non ultima la partita Cefaluno non ha toccato campo, è ritornato ad allenarsi con voglia e grinda. Questa sera ha dimostrato a tutti che c'è. È stata una settimana molto dura, perché questa è una partita che noi tenevamo. Quando siamo prima vogliamo continuare fino alla fine a prendere punti, punti su punti. Per fortuna abbiamo giocato bene, anche se all'inizio eravamo un pochettino fermi, però abbiamo fatto squadra e siamo andati avanti.